qui apro il concetto di bioroll forse già accennato qualche qualche giorno fa però lo riprendiamo un attimo se tu qui hai il tuo fiume il tuo piano di acqua che magari ha un suo argine e magari il tuo orto è sopra l'argine per cui hai un dislivello che è esattamente questo allora praticamente il discorso sarebbe questo se io in orto volessi farci le mie lattughine e volessi irrigarle con il canale qui faccio un pezzettino ma facciamo finta che vada avanti un bel po l'idea di fare del bioroll qual è fare uno scavo che va a pescare dal canale riempire lo scavo con materia organica possibilmente cippato piuttosto che fascine di rami legate le une alle altre creare un vero proprio l'ombricone di materia organica nella speranza che per pura e a volte non del tutto sufficiente capillarità l'acqua riprenda il percorso che tu hai predisposto e vinca in questo modo grazie alla capillarità vinca il dislivello per cui il problema della gravità l'acqua giustamente secondo le leggi della fisica si muove verso l'ambiente più asciutto per cui questo a livello teorico ti può aiutare vendono anche i bioroll al metro che sono proprio dei dei tubi di mi sembra fibra di cocco o di varie o di varie nature lunghi quanto vuoi già fatti tu scavi li metti dentro ricopri poi un po il solco per tenere ben coibentato il tutto affinché non evapori e così ti porti l'acqua nell'orto però il grande discorso il grande punto fondamentale di tutto questo è nell'orto nelle lattughine tu la terra come la gestisci perché io ho visto degli orti con i bioroll più o meno funzionanti con un solo inorganico completamente orizzonte b e lì manca quel pezzo finale quel quel passaggio finale di capillarità per cui è umido il fossetto col bioroll ma non è umida la coltivazione allora avere una buona facciamatura legnosa che mi vada a ricoprire anche tutte le ai vuole che mi crei una connessione tra ai vuole ai vuole sopra il bioroll è un elemento importantissimo in un caso come questo in un esempio come questo per permettere una capillare diffusione dell'acqua dal fosso alla coltivazione però ti ripeto spesso è una cosa che funziona molto di più a parole che nei fatti questo del bioroll soprattutto perché lo si cerca di mettere in pratica con degli ortaggi che non sono ancora stati particolarmente rirusticizzati attraverso la selezione del seme per cui è una di quelle tante cose che possiamo arrivare a far diventare una realtà ma che non è immediata da ottenere nell'immediato tutto questo credo che tu debba andare a mangiare perdonami se mi sono dilungato scusate a chi sono passato avanti comunque farò delle prove dei tentativi e vedrò come posso diciamo utilizzare questa fonte di acqua in qualche maniera hai mai sentito parlare di luciano furcas io vi invito i vi propongo di fare una ricerca sul luciano furcas e o eventualmente anche di contattarlo perché secondo me è un personaggio molto interessante per intenderci è colui che ha portato in italia l'agricoltura sinergica in qualche modo all'epoca che poi in realtà lui metteva in pratica in un modo tutto suo giustamente lui sta in spagna in una condizione di praticamente a eredità totale e si è abbastanza affinato in varie modalità di gestione dell'acqua e alcune sue tecniche sono anche particolarmente magari i nostri occhi stravaganti però è interessante il suo modo di vedere e di intendere l'acqua è una persona tendenzialmente disponibile che risponde che ho avuto l'occasione di incontrarlo nel 2015 secondo me è una persona autentica che merita di essere interpellata soprattutto sul tema dell'acqua per cui se ti capita contattalo e ha forse più di un profilo su facebook ma dovresti comunque ricevere risposta e ti potrebbe aprire un mondo sulla gestione dei biorolle e cose simili insomma grazie mille potresti ripetere il nome almeno lo segno luciano furcas grazie mille a te buon appetito e vi auguro una buona serata anche a te francesca palmas mi permetto di darti la priorità poiché non hai ancora preso parola stasera Andrea ciao anche tu non hai ancora preso parola troppo prego fine l'uno volevo restare sul goccia a goccia sapere se l'esperienza invece per quanto riguarda gli alberi insomma gli alberi se è utilizzabile in giro che non vedranno comunque tutti gli spruzzatori ancora quasi tutti mi sembra di vorrei cambiare l'impianto e dallo spruzzatore passare a goccia a goccia però non ho ben chiaro la modalità se devo fare dei cerchi intorno agli alberi se devo fare se devo mettere le manichette o vabbè o il gocciolatoio lungo i tronchi o spostati faccio l'esperienza rimetto in condivisione lo schermo per sintetizzare schematicamente questo concetto allora l'avevamo accennato ma lo riprendiamo perché giustamente potrebbe essere che ci siamo magari anche un po dimenticati le cose dette in passato perché le giornate sono sempre molto piene di stimoli allora una delle cose importanti da considerare è il discorso anatomia dell'albero si diceva la volta scorsa le volte scorse se ho una chioma di conseguenza ho una porzione di capillari delle radici che è tendenzialmente corrispondente almeno al volume della chioma ma in realtà va molto oltre cioè la radice va molto più lontano di quello che poi è veramente il margine della chioma facilmente si vedono sistemi di irrigazione o che strozzano le piante questo soprattutto per quelli che sono le aiguole urbane ma in caso di frutteto ipotizziamo che questa sia la nostra fila di frutti qua ci sia l'albero successivo e di conseguenza a destra ci sia quello precedente di solito cosa si fa si fa un filo di ferro che passa legato ai tutori che di solito sono sulla fila del frutteto e in questo filo ci si mette l'ala gocciolante o gli spruzzatori che ti bagnano che erogano acqua di solito hanno diciamo un diametro sufficiente per poter bagnare tutta la fascia in cui ricade la radice dell'albero è quasi sensato questo modo di valorizzare l'acqua perché dico quasi sensato perché crea comunque un sacco di umidità anche nel tronco ora qui la vado a evidenziare col verde per staccare un po se noi andiamo a bagnare il tronco e la parte proprio vicina al tronco delle radici non è che facciamo tanto bene all'albero stesso discorso che vi dicevo prima per l'orto umidità diffusa è un conto marciume asfissia è un altro allora per questo motivo io non mi sento affine a questo tipo di approccio di irrigazione all'albero né che sia spruzzoni che sia a goccia perché comunque a meno che il gocciolatore sia abbastanza distanziato dall'albero vai a creare un punto di marciume ma di solito li mettono molto ravvicinati proprio perché devono bagnare bene il terreno perché perché non c'è la visione ecosistemica non c'è se tu hai gli alberi che sono strutturati in questo modo con la chioma che arriva a una determinata larghezza facciamo finta che i rami si poi sono anche più vicini di così che si toccano io ti direi guarda effettivamente la proiezione del suolo di dove coincide la chioma per cui tu mi guarda la chioma arriva a questo piano che coincide con questa linea sia sia da una parte e sia dall'altra ok io ti direi metti una bella linea di irrigazione di qua e una bella linea di irrigazione di là per cui mi vai a bagnare ancora una volta nel punto di contatto tra la parte esterna e il profilo della chioma cioè il punto dove a mezzogiorno ti va a cadere l'ombra in questo modo sei abbastanza lontano da non far marciare il tronco sei abbastanza vicino da poter valorizzare la porzione dei capillari e seppure pure vuoi ma questo dipende dalla gestione dalla predisposizione del frutteto eccetera potresti addirittura scegliere di coltivare arbusti piante ortaggi qualunque cosa nella parte esterna per cui tornare ancora una volta a far valere una duplice funzione per il tubo di irrigazione in questo caso ti direi che che sia che sia gocciolante o che abbia lo spruzzatore può andar bene anche lo spruzzatore volendo soprattutto se devi dar da bere solo all'albero ci sono degli spruzzatori che fanno un getto anche più piccolo basta che questo spruzzatore non vada a infradiciarti il colletto della pianta o il tronco in questo caso mi riferisco all'albero sempre valido il discorso della pacciamatura per cui se ci fai la bella pacciamatura legnosa irrigazione sopra pacciamatura leggera sopra te alle piante gli dai da bere se in più gli vuoi fare delle semene di riempimento o la piantumazione di consolida quindi le gilde con piante minori che fanno da pacciamatura viva è una cosa in più molto utile per tutte quelle piante tutte quelle radici sono umidità per l'albero quindi le faresti rimovibili diciamo man mano che cresce l'albero potresti spostarle esatto assolutamente sì e parallelamente far sì di averne il meno bisogno possibile ci sta avere l'irrigazione però ci sta anche fare tutto il possibile per non dover usarla pur avendola per cui posso con le pacciamature con la pacciamatura morta e viva tenere l'acqua delle piagge invernali il più lungo possibile nel suolo beh se posso farlo e tirare fuori meno acqua dal pozzo meno acqua dal canale è comunque una scelta intelligente ah volevo dire qui fanno delle dighe nei fossi alla diga nel fosso e poi fanno scorrere l'acqua con la zappa fanno dei camminamenti per l'acqua con le riamazioni che aprono e chiudono sempre con la zappa molto impegnativa da gestire quel tipo di irrigazione per la schiena si sente subito meglio fare le vuole rialzate del gestire quel tipo di irrigazione per la mia esperienza però massimo rispetto perché è parte della tradizione agricola massimo o barbara lo dice anche mia suocera sì sì mia suocera è la sua opinione io non ci ho provato bravo poi però se è sabbioso è diverso però se è argilloso anche no stavo dicendo massimo e barbara ma però prima ti chiedo se se tu sei come dire esaudito sul 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 tema andrea eh sì 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 tutto da rifare sì sì va bene o magari da modificare il tanto che basta a volte magari gran parte della del maggiore bisogna raddoppiare cioè per adesso c'è ho ereditato diciamo ereditato a rigolette un tubo che scorre accrappiato tra i rami degli alberi stessi e che bagna tutto avrando mi ricordo poi le immagini del vaso che si era creato dentro agli alberi con le potature quello va tenuto asciutto anzi l'altro giorno abbiamo trovato in una quercia di confine ci siamo accorti che c'è un principio di marcescenza in quella che sembra essere una capitozzatura che ci siamo persi che ci siamo che non abbiamo visto quando la pianta ci fu già data insomma c'è un principio di infezione allora mia mamma ha provato a fare un trattamento con il con il propoli e sembra che stia incominciando a migliorare la situazione per cui già solo da questo piccolo piccolissimo risultato di questa piccolissima sperimentazione te la butto lì ricordati che il rimedio con il titrioli e il propoli anche solo per tamponare per allungare un po' la vita migliorare la situazione di quelle ferite male non ci fa certo forse no anche tra spruzzata non vorrei dire stupidabile però la sto già usando quando cominciano a tagliare un po' di roba di secco delle piante la sto usando ha un profumo mi piace vero vi riallaccio quello che hai detto prima sulla considerazione della plastica è vero però sono posto anch'io questo problema però mi sembra tutto sommato sostenibile se consideri appunto il grosso vantaggio che risparmi un sacco d'acqua vai a bagnare solo quello che vuoi e quindi anche questo è una lotta alle infestanti perché di fatto tu bagni molto vicino alle piante che coltivi e non bagni dove non ti interessa purtroppo quello della plastica credo che appunto è un mondo con cui conviviamo cerchiamo di usarne il meno possibile e di usarla bene proprio l'altro giorno ero nella vigna e da un po' che faccio la considerazione che dove è possibile ho eliminato anch'io la plastica normalmente tutte le fascette che si usano per legare i tralci ai fili adesso le uso di carta durano un po' meno ma durante la stagione vanno benissimo poi per esempio è importante legare saper legare con il salice spero che tutti sappiate legare con il salice anche se non è la materia di questa sera altrimenti domani vi faccio vedere come si fa a legare con il salice guarda se mi rinfreschi la memoria te ne sono grato perché l'ho fatto solo una stagione diciamo e poi non ho più avuto modo di rifarlo per cui volentieri allora domani faccio un finto filare qua davanti e poi facciamo due lezioni se volete prepararvi con il salice facciamo online grande grazie grazie a te aggiungo un'altra cosa altrettanto per me fondamentale a quello che tu stesso hai detto è vero usare l'impianto di irrigazione a goccia ci fa risparmiare l'acqua però se noi stiamo coltivando in una stagione siccitosa e nei nostri interfilari il suolo è secco se noi diamo acqua solo dove c'è l'ortaggio cosa che istintivamente facciamo arrivano le talpe lì perché seguono il lombrico che segue l'acqua e dopo che arriva la talpa arriva il topo e dopo che arriva il topo le radicchie e tutto il pattern 2 ti iniziano a salutare e lì diventa importante rimbocarsi le maniche demolire le gallerie pianta per pianta eccetera eccetera ricordatevelo irrigazione vuol dire anche aiutare il topo a trovarti l'ortaggio se pardossalmente si riuscisse a valorizzare le piogge spontanee il topo è molto più disorientato aggiungo un'ultima cosa per oggi che è una delle tante possibilità che abbiamo a disposizione cioè su come gestire il suolo in funzione all'irrigazione è comunque importante ricordare che stiamo facendo un discorso che all'interno di un periodo di riabilitazione che in un modo o nell'altro che prima che dopo siamo tutti incominciando per cui il primo obiettivo è comunque quello di rigenerare il suolo e più si va avanti con la rigenerazione meno bisogno c'è di irrigazione però proprio con la volontà di rigenerare il suolo noi abbiamo spesso parlato di questa paccia matura da riportare al terreno questa gloriosa paccia matura legnosa allora facciamo finta di voler utilizzare l'irrigazione facciamo finta di volerla utilizzare a goccia e facciamo finta che questa sia la nostra iuola vista un po in prospettiva e che questo sia il nostro piano visto in sezione noi potremmo dire se adesso facciamo molto semplice se questa è la mia portante questa che vado a disegnare in azzurro e questa è la mia irrigazione che mi fa il giro adesso vedo che il programma ha un attimo di lag ma tra poco dovrebbe riuscire ad apparire per cui riportandolo in sezione se io so che questi sono i miei tubi in sezione e so che quindi qui mi andrà a cadere l'acqua io potrei anche fare una cosa del genere quando vado a preparare il suolo dopo aver fatto la minima lavorazione quindi dopo aver reso omogeneo il suolo potrei andare a fare due piccoli scavi in questo caso due perché ho due linee 4 se fossero 4 che mi vanno praticamente a infossare il dislivello in prossimità dell'irrigazione per fare che cosa per riempire questo dislivello con il cippato noi potremmo andare a creare all'interno dell'aiguola stessa dei piccoli capillari swales che avevamo già visto in una delle prime giornate soprattutto per quanto riguarda le coltivazioni in discesa ma noi potremmo fare nella stessa aiguola dei piccoli swales che hanno un vantaggio cioè si crea un importante serbatoio d'acqua negli orizzonti lievemente inferiori dell'aiguola quindi il punto in cui l'acqua può rimanere di più può ridistribuirsi per cappellerità maggiormente nel sottosuolo ora in superficie invece abbiamo questo altro vantaggio che se la nostra pianta cade in prossimità della cresta del suolo che affiora è anche vero che la porzione di questo suolo qualora non fosse particolarmente organico o pacciamato è comunque minore è comunque molto minore rispetto a tutta la porzione trattata con lo swale che poi accoglie l'irrigazione questo per tenere in considerazione come una piccola modifica della nostra superficie del suolo potrebbe aprire una strada altrettanto importante ovviamente valorizzando bene la pacciamatura anche in quello che abbiamo detto essere il piede dell'aiguola quindi tutto attorno perché solo al centro non sarebbe sufficiente piccoli swales per quella che qualcuno chiama la tecnica della aiguola patatina rustica per valorizzare al massimo la pacciamatura e l'irrigazione l'anno dopo si toglie l'irrigazione anzi l'anno dopo a fine ciclo si toglie l'irrigazione si fa la lavorazione e già la pacciamatura che hai messo l'anno prima torna dal corpo all'orizzonte A se poi anno dopo anno vogliamo mantenere questo ulteriore passaggio questa canalificazione per fare i microswale male non fa male assolutamente non fa è un vantaggio perché può essere un vantaggio perché ti permette di metterci molta pacciamatura quindi avendo un buon vantaggio di coibentazione ma non ti fa affogare le piantine nella pacciamatura perché tu hai comunque la terra lì dove mette la piantina in prossimità dalla fila l'altro giorno mi sono interfacciato con Francesca proprio su questo tema una delle possibilità però va messa in prospettiva quanta mano d'opera c'è quanto tempo c'è eccetera quanto il suolo permette di farlo è questa creare l'abbondanza della pacciamatura nel microinterfilare affossato a fianco punto con questo chiudo quello che per me è essenziale dirvi sul tema irrigazione che attendiamo da tempo se ci sono rimaste domande o necessità di chiarimenti in sospeso le possiamo prendere in considerazione adesso e se non ci sono ci 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 lasciamo allo svago o al libero flusso posso chiedere una cosa io veloce una curiosità anche non veloce certo no visto che si parlava di cisterne comunque rialzate per un discorso della pressione non è possibile con una pompa usare delle cisterne a livello terra se non addirittura dei laghetti creati appunto nelle zone limitrofe dell'orto è assolutamente possibile certo pompe che fanno il lavoro di che non ti fa la cisterna che non ti fa il desilivello devono appunto come dicevo prima Diego va darti la giusta portata e la giusta pressione per quello che tu devi effettivamente irrigare molto interessante è farle funzionare con l'energia della stella madre secondo me è un pannellino fotovoltaico per cui una pompa adibita a questo per me è molto interessante come possibilità io mi sto muovendo per farlo che in quei piccoli stagni comunque ci sono un sacco di pesci di ossigenazione dell'acqua comunque di concime naturale appunto qualcuno diceva prima anche delle zanzare tenere le cisterne aperte ho sentito che gente usa le gambuse che sono dei piccoli pescettini che mangiano le larve delle zanzare noi le abbiamo messe nei nostri piccoli cattini dove abbiamo dei piccoli stagnetti e ha funzionato benissimo ovviamente bisogna mettere un un doppio filtro per evitare che la vita dello stagno finisca dentro in questo caso di solito si emettono più una o più reti metalliche messe a cilindro infilate dentro al canale o allo stagno e il tubo di pescaggio che ci entra dentro con questi vari livelli protettivi concentrici che poi progressivamente vanno puliti ma quello anche i filtri grazie a te davide sei tornato si scusami alessandro scusami figurati per quanto guarda invece se volessi provare a fare una parte di orto diciamo senza acqua quindi soltanto sulle piogge e quant'altro tu hai qualche consiglio specifico cioè ad esempio evitare certi tipi di orto perché hanno un po' bisogno di troppo elevato o qualcosa di questo tipo allora sicuramente il pattern 1 te lo permette soprattutto se comincia a novembre dicembre perché si fa forte della radicazione autunnale invernale e se fai la buona pacciamatura te le porti raccolto senza problemi se tu hai fatto questo quando arrivi a raccogliere un po'